Sono le 13 e 46 del 9 marzo del 2023. Mi trovo qua al mio orto, qui ho messo diversi polloni di bucciolo. Da qualche parte qualcuno non ha ripreso e quindi ho fatto buco, buco e messe a dimora. Sì, tiraforte e vento. Allora per qui, tra una cinquantina di giorni, pago una persona e ci faccio una bella pesata qua in mezzo. Non è che mi ha spiegato a fare. Allora, questa è quella che ne ho ripreso. Questa è una possa e piantini di mese di mura. Anche questa l'ho messa oggi. Questa l'ho messa oggi. Altre quattro poste l'ho messa di là. Facciamo da questa parte. Questi sono un po' di danni almeno, a me non ho prodotto in un'occiola. Qui sono più piccola. Qui l'ho messa anche oggi. Dopo ci devo mettere un'altra ora per mantenermi diretti. Anche qui non ho messo in aria. Sì, esattamente sono quattro ore che sto ad operare qua gli strumenti di lavoro. Ecco qua, adesso. E qua sto appanato a buco. Essenzialmente sto ad operare la zappa. La manca. Il forcone manca. Ah, a proposito, ho messo anche quest'altra pianta. Un tiravetto, vento, vento. Comunque è bello lavorare in cabaglia. Si torna stanchi, felici e contenti. E che succede? Questi qui, fra 5-6 anni, praticamente, si allargono, cresci in altezza e anche in larghezza e quindi dal momento si allarga qui rimane l'ombra e l'erba non cresce più l'erba oppure l'erba piccolina e soprattutto si raccolgono nocciole. Qui ci troviamo nel 1 di marzo nel Piano del Luce regione Abruzzo 675 metri l'altezza sul livello del mare. Quello è il Monte Penna visto che c'è l'area archeologica e c'è Tancitri e anche qui c'è qua è tutta l'area archeologica. Ecco, Monte Pelino comunque di ravente però io mi scaldo se quando c'è la campagna ci si scalda.